Dal 6 agosto scorso è in vigore il Green Pass che permette ai cittadini di poter partecipare agli eventi al chiuso, ma da settembre potrebbe essere obbligatorio anche a scuola e sui mezzi pubblici. Per l'infettivologo Giustino Parruti parliamo di uno strumento necessario. Dà una valutazione del rischio che l'utente di un servizio o il partecipante a un raduno sia portatore di coronavirus. Quindi ci dà un giudizio di estrema improbabilità che una persona sia portatore di coronavirus. Assemblando una o più condizioni delle quali la vaccinazione entro un certo periodo o la combinazione di malattia pregressa e vaccinazione per l'altra parte, insieme al tampone negativo delle ultime 48 ore, cioè assemblando tre diverse condizioni, ci rende fruibili in un contesto di ripresa, purtroppo, della circolazione del virus variante, di fare la vita sociale che abbiamo tanto desiderato. Si può fare un matrimonio, si può fare una festa, si può fare appunto una scuola in presenza. Sono tutte condizioni che vengono soddisfatte. Oggi discutevamo anche, ve lo dico sinceramente, se non fosse opportuno addirittura, nell'ambito delle visite in ospedale, utilizzare la stessa regola perché aumenterebbe ulteriormente il livello di sicurezza. Sulla vaccinazione in Abruzzo numeri positivi, come spiega ai nostri microfoni, il responsabile del reparto di malattie infettive del Santo Spirito. La situazione dell'Abruzzo è ottima, nel senso che stiamo andando sopra la media nazionale in termini di copertura, con la doppia dose, con i singoli vaccinati e soprattutto abbiamo un record sulla fascia di età dei più giovani. Insieme a poche altre regioni abbiamo superato il 25%. Quindi sono tutte cose molto positive. Su questo concetto dell'immunità di greggio, però, io mi sono espresso sempre allo stesso modo e non posso che ribadire la stessa cosa. Allora, questo virus, purtroppo, nella sua rapida evoluzione, ha mostrato la capacità di selezionare sempre più varianti che si contraddistinguono per la alta contagiosità. Preoccupa un po' la variante Epsilon, ma il dottor Parruti invita a non drammatizzare spiegando che le varianti ci faranno ancora compagnia per tempo. Quindi noi avremo questo virus che, purtroppo, riesce a modificare la proteina spike, la proteina recettoriale, in forma talmente efficiente da non perdere di patogenicità. Che cosa però sappiamo di per certo? Che i vaccinati con doppia dose o coloro che hanno fatto l'infezione con una variante e poi un richiamo vaccinale iniziano lo sviluppo di una classe di anticorpi molto totipotenti, molto validi su tutte le varianti e soprattutto inducono un gran numero di cellule nella maggior parte dei vaccinati che sono buoni per tutte le varianti. Quindi il messaggio positivo qualunque sia la variante in circolazione è che il vaccinato ha una protezione contro la mortalità e in larga misura contro la malattia grave che è assolutamente importante.